Avete mai ricevuto un invito per una serata elegante con indicato il dress code? Ebbene adesso stavamo guardando le immagini delle sfilate di moda, beh spesso le scuole purtroppo aggiungo si trasformano in sfilate di moda, ma non solo, ci sono anche abbigliamenti che vengono ritenuti non consoni per il luogo in cui vengono indossati. Insomma, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che molti istituti stanno imponendo delle regole ad esempio di abbigliamento, ma non solo per gli studenti, no ai pantaloni strappati ad esempio, ai pantaloncini troppo corti e così via. C'è un grande anche fermento di chiamiamolo borbottio da parte degli studenti, tanto che molti addirittura stando a una statistica al 38% dicono che non aderiranno a queste indicazioni che arrivano appunto dalla dirigenza scolastica. Beh, che cosa dire? Ancora una volta sarebbe necessario utilizzare il buonsenso da una parte della scuola, dall'altra parte dei giovani e delle famiglie. La scuola è un luogo anche di incontro, di confronto, anche di comportamenti. Ecco, prima forse di una circolare che imponga determinate regole, forse varrebbe la pena coinvolgere in questa discussione i ragazzi e avere un confronto con loro. Non è che un pantalone strappato faccia tanta differenza tra il comportamento generale che una ragazza e una ragazza possono avere all'interno della scuola, ma sicuramente può essere lo spunto per trattare argomenti che coinvolgono tutti. Buon insegnamento! Grazie! 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 Grazie!